Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo progetto su Minecraft fatto da me, Irax. E da Bio. E in questo progetto praticamente cercheremo di fare una casa per sopravvivere. E cercheremo di caratterizzarla in modo semplice, con il tocco raffinato di Bio. Sì, ovvio. Allora, prima di tutto tu prendi le mucche, prendi il cibo, io prendo un po' di legna. Ok. E me la fa spaccare perché sono vicino allo spawn, infatti. Mi blocco pure. Appena poi fai il crafting. Sì, ancora neanche ho preso la legna. Sì, qua prende. Sì, però ti faccio solo le cose che ti servono, eh? Sì, sì. Basta un piccone e una spada, boss. Ok. Ma ti faccio la spada, prima di tutto, così prendi... Sì, sì. Ma si gli animali subito. Allora, crafting. Poi stacchini. Ok, mettiamo qua. Già fatto. Faccio una spada. Ti hai, trabutto. Thanks. Ti faccio piccone, ti hai. E io mi faccio una cosa per... La lascia... La lascia... E' una spada, vorrei. Ok, fatto. La possiamo rompere. Comunque, cioè, dopo aver fatto legna e cibo, cioè, propongo di andare in questa montagna qua. Aspetta, aspetta. È abbastanza comodo come posso. Si ma è lontana. No, è qua, qua. Eh, sì, non vedo per ora. E dove ti faccio vedere? Dove? Ce l'è dietro. Vabbè, fai niente. Oh, questa qua. Che c'è davanti? Io davanti? Qua in cima. Dove? Quassù. Eh, quella lì? Mmh. Vabbè. Secondo me sopra... Sarà uno schifo, però vabbè. Oh, vediamo. Ragazzi, noi stiamo iniziando questo progetto per... Che ci piaceva farlo, però se non... Se vi piace, noi lo continueremo, se no... Ci fermeremo, pulsata da voi. Se mettete... Alcuni dei mi piace, noi continueremo, giusto, Pio? Ovvio. Se no, no, ci fermeremo. Ho già finito la spada, io. Eh, che cazzo. Ti dà la perdita la mia. Tanti non la uso. Prendi e sei le... Di fame, eh? Di cibo. Vabbè, io... Già un po' di regna ce l'ho. Ne ho... Beh, questa me la lascio. Ne ho 60, già è pregiata. Io ho quattro gli stecchi e sette pezzi di maiale. Vabbè, sì. Ci incominciamo a incamminare? Che dici? Sì, dai. Allora. Andiamo a vedere qua sopra. Ah, fai saluto da tu. Che sereno. Sì, ma tu vuoi proprio... Ma qua non ti piace questo passaggio? No. Tu passi attraverso la montagna. Ecco qua, mi sono bloccato. Allora. Due, tre, quattro, cinque. Che palle. Ok. Io sto sopra. Più o meno. Ovviamente io sto sopra. È arrivato. Ci sei andato attraverso una roccia. Eccoci qua. Che facciamo? Ma neanche mi piace tanto questo po' piccolo. Beh, però si è vicino però agli animali, si. Però io vorrei fare pure vicino a una grotta. Là c'è carbone. Dove? Qua sotto, veniva qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dove? O sotto. In quella montagna. Sì, no, ah, secondo me c'è solo quella in quella montagna. Oh, oh, aspetta, guarda. No, qua non c'è niente. Vabbè, comunque la vera, cominciò a farla qua, dai. Sì? Sì, sì. Io ho 15 cobblestone. Cominciò a farla qua, dai. Cominciò a farla qua, c'è una grotta. Dove? Due grotte, vado in fondo, in fondo al lago. Cominciamo a fare che dovevo fare. Ah, sì. Guarda quella con la sinistra. Aspetta un attimo. Vabbè, non mi interessa, però. Vai, mentre che faccio la casa, se vuoi andare nella grotta, vai, così prendi carbone. Ok. Però non c'è niente. Non c'è carbone, non c'è... Cioè, non c'è... Il piccone ce l'hai. Il piccone spava. Eh, il piccone ti serve. Ma la fornace l'ha già fatta oppure... No, come faccia la fornace del paroccio? Ve l'ho fatta io. Oddio. Eh... Il legno per bruciare ce l'hai? No, no, no. Non da sciupare. Ok. Quindi conviene... Mangio fresco allora. No, no, non mangiare fresco. Perché devi sciupare le cose? Vabbè, dammi il piccone allora. Ma chi ce l'ha il piccone? L'ho fatto solo per te io il piccone. Vabbè... Che ti do di dammi... 5 legne allora, oh. Per fare il tirchio. Basta, basta. E allora... Qua faccio... Su gioco a questa grandezza, poi si stende questa mano. Sì, sì, vabbè. Formale. Allora... Sì, se riesco ad entrare, sì, ok. Ok. Che fai? Niente, ma vado in grotta. Sì, non sono mai chiuso. Eh, sì, c'è buio. Ci vai ora in grotta. Sì, vado a fare un giro. Vai a prendere le pe... 6 di pecore. 2... Ne ho già. Eh. 3.4. Sì, aspetta, c'è torno a fare la spada allora. Eh, che cacchio, la legna. Oh, basta che mi apri. Anzi, va. Ci entro io sto. Allora, spada, spada, spada. Eccola qua. Come faccio, come faccio? Un... Uff. Poi vado a fare velocisti e pecore e poi... Facciamo i letti e dormiamo, ok? Vabbè. Allora, spada, 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 spada